Allora, congratulazioni, è questo il secondo posto parte a Fisiena per questa Coppa del Presidente, ovviamente immagino di essere molto mostrata. È la vostra prima esperienza per Fisiena o negli anni scorsa due volte è clare o in entro qua? Io ho partecipato due anni con il poli, un anno nel troppo è un poli e un anno nel poli. Ok, che invece? Io ho il secondo anno con la squadra, anche l'anno scorso abbiamo fatto secondi e ho partecipato anche con il poli nella poli. Invece per me è stata la prima volta che mi piaceva la pezza di sé. Anche per me è stata la prima volta che mi piaceva la pezza di sé. Quindi io l'anno scorso mi spazio con lei, sempre te. Ecco, invece facciamo una domanda specie in Gabb 2, in precedenza avete avuto altri concorsi simili a questo e la prima di me lo ce l'ha? Piera Cavalli ho partecipato diverse volte, sempre con il poli e ho partecipato anche a una squadra, la Coppa delle Regioni con il poli. Invece per me è stata la prima gara a squadra e mi ha fatto un'emozione incredibile, è anche bello fare il gruppo con l'altro regalato. Ottimo, vi aspettavate questo risultato, questo secondo posto qui nella Coppa delle Presenze oppure no? Ce l'abbiamo visto tuttavia, non speravamo tanto. I vostri cavalli quando reagite in questo campo, in questo ambiente, comunque abbastanza anche affollato, no? Sì, sì, allora io parlo per il mio che è stato veramente bravo, cioè non me lo aspettavo, mi ha dato tutto quello che fa, che è stato veramente fantastico. Devo perdere, sì, hanno notato a costo più. L'ultimo è che ha fatto la forza, la fine che vuoi spiegare. Ottimo, sono davvero felice e da zero complimenti ancora di cuore e speriamo anche nei prossimi anni, eccomi, di nuovo le siglazioni e risultati. Grazie. Grazie.